Un posto al sole, trame 5 e 9 marzo, un inaspettato testimone in castra Prisco? Eccoci tornati nuovamente con le anticipazioni di Un posto al sole, che da 20 anni appassiona milioni di telespettatori. . Le trame degli episodi in onda dal 5 al 9 marzo rivelano che è arrivata la fine per Gaetano Prisco, il quale sarà incastrato da un insospettabile testimone. Inoltre una storica coppia annuncerà il suo imminente matrimonio. Alberto deciso a motivare Sandro. Franco ed Angela hanno deciso di non affrettare la loro riconciliazione, ma in realtà, tutto subirà unaccelerazione. Alberto è deciso a motivare Sandro, in modo che lui ritrovi lorgoglio di appartenere ai paiadini. . Intanto Marina scopre che Roberto ha agito alle sue spalle riguardo alla commessa di Veronica Viscardi. . Le vite di Silvia e Teresa saranno un po' sconvolte dall'arrivo di Emanuele Roversi e Michele Otello avranno da ridire. . Franco e Angela decidono di sposarsi. . I rapporti tra Sandro e Roberto si fanno sempre più tesi, Alberto guadagna sempre più terreno con il nipote, conquistandone la fiducia. . Franco e Angela decidono di sposarsi e lo comunicano a Renato e Giulia. . Nel frattempo, Giovanna convocherà una vecchia conoscenza di Franco per incastrare Prisco. . L'incontro tra Michele ed Emanuele Roversi non andrà molto bene ed anzi, il giornalista, apparirà stranamente geloso. . Ciro incastra Prisco Giovanna ha finalmente le prove per incastrare Gaetano Prisco ed il tutto grazie alla testimonianza di Ciro. . . Come reagirà l'usuraio? Come avevano previsto Alberto e Veronica, i rapporti tra Sandro e Roberto si fanno sempre più tesi. . Michele diventa sempre più geloso del rapporto tra Silvia e il suo editor. . Intanto Emanuele si rivelerà molto diverso da come si è mostrato fino ad ora. . . Nico si scontra con Susanna. . Vittorio è sempre più in crisi e prova a reprimere i sentimenti che prova per Anita. . Proprio nel momento in cui si stava convincendo che l'amore non è altro che una grande fregatura, verrà travolto da un evento inaspettato. . . Nel giorno della festa della donna, Franco si prepara a salutare il suo amico Peppino per tornare a stare insieme alle due donne della sua vita mentre Nico finirà per scontrarsi con Susanna. . . Anita e Vittorio a letto insieme. . Vittorio vivrà un momento di passione con Anita e ne sarà frastornato. . . . . .